Il nostro ospite negli studi di Bruxelles è il rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Unione Europea, l'ambasciatore Vladimir Shishov, benvenuto su Euronews. Questa settimana l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro posizione nei confronti della Russia come conseguenza dell'avvelenamento avvenuto a Salisbury a marzo. Ad accordo con loro sul fatto che l'uso di armi chimiche sul suolo europeo richiede misure severe contro il paese da cui proviene, ossia la Russia? Mi chiedo dove abbia avuto l'informazione di un avvelenamento messo in atto dalla Russia, questa isteria antirussa che è partita da un lato dell'Atlantico ed è riuscita ad attraversare l'oceano come un virus che ha colpito l'Europa, sta svanendo. I suoi sostenitori sono a corto di argomenti e perciò tirano fuori i pretesti di molti anni fa oppure ne inventano di nuovi che non hanno nulla a che fare con la realtà. Il segretario agli esteri britannico ha visitato Washington al fine di costituire un fronte unito con l'Unione Europea contro la Russia. La Gran Bretagna usa due pesi e due misure. Un paese che è sul punto di lasciare l'Unione Europea con o senza un accordo, come abbiamo visto, intende dare consigli e istruzioni su come relazionarsi con la Russia. E adesso sono andati ancora più in là e vogliono dare consigli agli Stati Uniti. Ambasciatore, grazie per la sua intervista.